Ciao a tutti, benvenuti al nostro liceo, io e i miei compagni vi diamo il benvenuto in questa scuola, adesso direi di andare a visitarla. Andiamo a conoscere la dirigente. È un pollo liceale che comprende quattro tipi di liceo, il liceo classico, il liceo scientifico ordinario, il liceo delle scienze applicate e il liceo sportivo. Il liceo classico richiama studenti da tutta la provincia e concilia molto bene tradizione e modernità e spinta verso il nuovo, anche attraverso l'adesione alla rete nazionale dei licei classici, con la notte dei licei, eccetera. Anche il liceo sportivo, unico autorizzato dal MIUR in città, aderisce a una rete regionale di licei sportivi dove si condividono iniziative di formazione di tipo appunto sportivo. Ogni indirizzo ha la sua specificità ovviamente, ma tutti concorrono a una solida formazione di base, fatta non solo di conoscenze, ma anche di competenze spendibili, prima di tutto nell'universo universitario, da questo istituto si accede a praticamente tutti i corsi universitari, ma anche nel mondo del lavoro. Si sviluppano infatti competenze trasversali che sono diciamo ormai richieste dal mondo del lavoro appunto come un metodo di studio, la capacità di lavorare in team, le capacità critiche, la capacità di gestire i tempi del proprio impegno scolastico con la vita personale, sportiva, familiare. Ovviamente è una scuola impegnativa che richiede motivazione, una forte dedizione, amore per lo studio, ma anche una scuola ricca di stimoli e di tante iniziative progettuali che permettono ad ogni studente di trovare un po' la sua dimensione. Sono da pochi mesi in questa scuola, ma già ne ho potuto apprezzare alcuni aspetti, per esempio la spinta innovativa di alcuni docenti, lo sforzo per la valorizzazione delle eccellenze e il protagonismo attivo degli studenti visibile, per esempio, in molti progetti di peer education che ormai sono consolidati e fanno parte del patrimonio di questo istituto. Il nostro liceo scientifico comprende tre indirizzi, liceo scientifico ordinario, liceo delle scienze applicate e liceo sportivo. Il denominatore comune di questi indirizzi è il fatto di fornire una solida preparazione di base su tutti i versanti, quello umanistico e quello scientifico, in maniera da poter proseguire un percorso di studi universitari appunto in qualunque ambito. E questo ce lo confermano poi i risultati dei nostri ragazzi che entrano anche in facoltà che richiedono l'accesso a numero chiuso e conseguono risultati nei tempi e con ottimo profitto. Nella loro specificità poi, tutti quanti appunto danno questa preparazione solida e completa. In particolare il liceo scientifico ordinario realizza proprio questo connubio e questo equilibrio perfetto tra materie umanistiche e materie scientifiche. Nel liceo scientifico ordinario il rigore e la sistematicità che le materie scientifiche richiedono si sposa perfettamente con il rigore e la sistematicità che per esempio lo studio della lingua latina richiede. Nel liceo delle scienze applicate una particolare importanza è data allo studio delle scienze, quindi della chimica, della biologia e delle scienze della terra. I ragazzi hanno molte ore alla settimana in questa materia, possono andare spesso in laboratorio e in laboratorio affrontano l'argomento per la prima volta e dall'osservazione dei fenomeni poi arrivano alle leggi che governano quel fenomeno. Altra materia caratterizzante delle scienze applicate è l'informatica, in cui i ragazzi non sono dei semplici utilizzatori del computer, della macchina calcolatrice, ma imparano a programmare in un linguaggio di programmazione e quindi a impartire alla macchina calcolatrice le istruzioni per raggiungere un determinato obiettivo. Infine il liceo scientifico sportivo che mantenendo appunto quella caratteristica di dare una solida preparazione nelle materie scientifiche e umanistiche, che aggiunge una focalizzazione sulle discipline sportive e sulle scienze motorie, presenti con un gran numero di ore settimanali, sei ore al biennio e cinque ore al triennio, in cui i ragazzi appunto hanno modo di affrontare sia dal punto di vista pratico che teorico le varie discipline sportive. E al terzo anno si aggiungono elementi di diritto e di economia dello sport, perché uno dei possibili sbocchi poi di questo indirizzo è quello di proseguire sempre nel settore sportivo però in ambito menageriale. Oltre a quello che facciamo al mattino, che ho cercato un po' di descrivere, ci sono poi dei progetti trasversali che riguardano tutti gli indirizzi del polo, in particolare con soddisfazione mi piace ricordare il riavvio dopo questa pausa del covid della curvatura biomedica, è una sperimentazione unica in tutta la provincia in cui i ragazzi possono appunto potenziare l'insegnamento delle scienze sia da un punto di vista teorico con insegnanti della scuola e in collaborazione con l'ordine dei medici, sia dal punto di vista pratico sul campo e quindi possono capire se effettivamente proseguire poi in un percorso universitario in ambito sanitario è la cosa giusta per loro o meno, quindi un importante lavoro a livello di orientamento per il loro futuro. E poi le certificazioni linguistiche, PET, FIRST e CAE, le certificazioni informatiche, quindi CDL, il patentino della robotica, tutti progetti che vedono un notevole afflusso di studenti perché appunto riguardano la trasversalità insomma degli indirizzi. Il liceo classico è un liceo in cui le materie di indirizzo sono chiaramente le materie umanistiche, quindi l'italiano, la storia, la filosofia e le lingue classiche, quindi il latino e il greco, ma non mancano certamente le materie scientifiche, specialmente con la riforma si è aggiunta all'insegnamento della fisica già a partire dal terzo anno per tutto il triennio e per tutto il quinquennio sempre con la riforma in tutti e cinque gli anni l'insegnamento delle scienze, oltre ovviamente alla disciplina di matematica. Una preparazione a tutto tondo che consente agli studenti del liceo classico di proseguire in qualunque ambito universitario, sia diciamo facoltà umanistiche che facoltà scientifiche o in ambito giuridico economico. Stiamo facendo una lezione su Senofonte, stavo facendo una verifica orale, anche attraverso l'uso della LIM, in genere usiamo anche questi strumenti per poter presentare gli argomenti, soprattutto al triennio, gli argomenti di letteratura, in unione chiaramente anche a quelle che sono le strutture grammaticali che devono essere la base per poter affrontare i testi. Il liceo classico utilizza quelli che sono anche alcuni strumenti tecnologici anche in altri ambiti, in altre attività, come per esempio quello della Notte Nazionale del Liceo Classico. La Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che in tutta Italia si svolge da anni e quest'anno sarà il primo aprile, in epoca pre-covid era gennaio, dove tutti i licei classici si improvvisano dell'attività in un pomeriggio, dalle sei di sera a mezzanotte si fanno attività teatrali o di lettura o anche attività ludiche. Quest'anno lo stiamo preparando per aprile, tenendo come filo conduttore Dante e poi vedremo di aggiungere anche altre attività. Insegno latino e greco, storia, liceo classico, Carducci, Ricasoli, sono archeologo e quindi oltre che insegnare le materie letterarie presento anche tutti gli anni un progetto di archeologia, archeologo per un giorno, ai ragazzi del ginnasio, dando loro la possibilità di scoprire, di ritrovare attraverso uno studio analitico di quelle che sono le testimonianze storiche e artistiche, le diverse discipline che affrontiamo quotidianamente in classe. Io sono qui per illustrarvi il percorso PCTO che la scuola nostra, cioè liceo classico, ha deciso di impostare fin dall'inizio. Abbiamo pensato che il contesto del museo e dei beni culturali e quindi anche dell'archeologia fossero degli argomenti spendibili per questo tipo di discorso. Quest'anno finalmente siamo ritornati a svolgere al completo il percorso perché pur, diciamo, permanendo questa situazione pandemica difficile, comunque c'è la possibilità, con le dovute accortezze, di poter uscire anche dalla scuola e poter far svolgere ai ragazzi queste attività. E quest'anno, diciamo, i nostri ragazzi, c'è la terza B, che è questa, e la terza A, si sono mossi all'interno della mostra che c'è al Museo archeologico, sui Longobardi, la Toscana, una terra di mezzo, e i ragazzi sono stati, diciamo, formati dal personale del museo, dalla direttrice in persona, Chiara Valdambrini, e dal suo, diciamo, staff di collaboratori, per poter, diciamo, cominciare a fare anche loro, in una certa occasione, in una sorta di performance finale, da Ciceroni per un giorno. Il percorso che stiamo intraprendendo è molto interessante, soprattutto per me, che non avevo mai visitato il Museo archeologico di Grosseto e ho scoperto delle informazioni molto interessanti sulla città e soprattutto per quanto riguarda la mostra sui Longobardi, che mi ha particolarmente colpito e che non vedo l'ora di poter esporre poi al pubblico, mi ha molto interessato perché ho visto come la storia più universale, quindi la realtà dei Longobardi, abbia poi influito con una storia invece più particolare, quella della nostra realtà, della nostra città. Sono molto entusiasta di poter esporre questo progetto e quindi parlare della storia dei Longobardi al pubblico perché è un interesse di tipo archeologico che ho sempre avuto quando sono piccola e soprattutto posso spiegare e raccontare una storia che mi appartiene perché è una storia di tipo locale. Fin dal primo anno lo studio della lingua inglese qui al liceo scientifico è molto approfondito, molto potenziato, tanto è vero che in prima e seconda si può aderire anche a una ora facoltativa di potenziamento un'ora settimanale che nella classe prima è fatta diciamo da un insegnante non della classe ma sempre del liceo. Comunque il biennio è, ripeto, come negli altri licei, un programma linguistico, quindi grammatica e lingua. Dalla terza in poi si integra con il programma di letteratura. Ma ciò che ci interessa veramente fare come percorso, diciamo, di sviluppo che accompagna questi ragazzi fin dai primi anni è anche lo studio delle certificazioni linguistiche. Noi predisponiamo parte del nostro programma già con un, diciamo, interessamento allo studio delle certificazioni linguistiche, il PET, il FIRST e il CAE, l'ADVANCE ovviamente che è la parte, diciamo, più impegnativa che molti di loro, diciamo, affrontano in quinta. Oltre alla parte, diciamo, che noi dedichiamo durante le nostre lezioni, il Polo Aldi organizza durante il pomeriggio anche dei corsi con dei madrilingua per queste tre differenti certificazioni. A scuola nostra si presta molto attenzione a quelli che sono i livelli d'inglese. Infatti facciamo i corsi dell'ADVANCE, del C1, che appunto è un livello superiore dell'inglese che a scuola nostra è creata dalla professoressa di Milite Catellani. Il nostro istituto è già sei anni, che si muove nella direzione di, come dire, sostenere i ragazzi che decidono di studiare un anno all'estero. nonostante anche la pandemia e gli ultimi due anni, questa attività continua. E abbiamo studenti che sono in mobilità e alcuni che sono rientrati. La scuola si caratterizza per offrire, unica sul territorio, un corso CAE. Il CAE è un acronimo che sta per Advanced English ed è un corso di certificazione di inglese avanzato. E siamo molto orgogliosi di dire che questo corso ha avuto un successo enorme in studenti che sono ovviamente più portati verso materie scientifiche che li impegnano tanto. Volevo chiedere alla professoressa Elena Festeggiato qual è il senso di studiare ancora nel 2021 latino. Il latino innanzitutto non è una lingua morta, è una lingua viva che si parla ancora oggi e i ragazzi lo sanno, questa è una classe dove insegno latino. Tutte le parole che loro conoscono e che si conoscono in realtà hanno origini latine, molte di queste, per cui lo studio di questa lingua in questa scuola permette anche di usare con più consapevolezza e più padronanza la lingua italiana. Questo potrebbe essere già un motivo valido. Un altro potrebbe essere che il latino, soprattutto nel triennio, viene studiato anche per quanto riguarda la lingua e la civiltà, la civiltà latina, è importante perché permette di fare un viaggio nel proprio passato alla ricerca delle proprie radici culturali. Chiaramente il latino in questa scuola è importante, lo studio del latino anche per le discipline scientifiche perché funge proprio da supporto per l'acquisizione delle capacità logiche. Io ho scelto questa scuola 20 anni fa da studente, l'ho riscelta quest'anno che sono entrato di ruolo. Il motivo per cui ho scelto questa scuola tanti anni fa e è quello che poi spinge i ragazzi tuttora a sceglierla è perché dà una preparazione a 360 gradi. I ragazzi che fanno questa scuola generalmente amano le materie scientifiche ma quello che vorrei dire è che non è una scuola di geni, non sono un genio io, non lo ero prima e quindi è una scuola che possono fare tutti, tutti quelli che ovviamente hanno voglia di impegnarsi perché obiettivamente è una scuola impegnativa. Ci dà però delle basi forti, il primo anno di università per chi esce da qui specialmente nell'ambito scientifico, non dico che è gratis ma insomma la fatica è molta meno, è chiaro che periodi di difficoltà ci possono essere. Li ho avuti io e piano piano si riescono a superare però insomma se volete una scuola che vi possa permettere di avere insomma una conoscenza e delle competenze di livello per affrontare studi soprattutto scientifici, io la consiglio caldamente. La filosofia diciamo che non ha una funzione concreta, non serve a insegnare come si fa qualcosa, però sicuramente ci dà delle informazioni su come si ragiona, su quali sono le leggi del ragionamento, ci dà anche uno stimolo per riflettere su questioni che chiunque si pone, non solo lo scienziato che chiaramente poi deve sfruttare anche dei presupposti teorici e filosofici, ma anche l'uomo comune che chiaramente si pone degli interrogativi su quale sia l'origine dell'universo, su quale sia il funzionamento della nostra mente, su come riusciamo a conoscere le cose, a parlarne, quindi quali sono i fondamenti del linguaggio. Gli interrogativi sull'etica per esempio, un'altra questione filosofica che poi ha dei riscontri anche sul piano diciamo della vita quotidiana. Siamo qui nel laboratorio di scienze del polo liceale e in questo laboratorio vengono svolte tutte le attività inerenti alle materie scientifiche quali scienze della terra, biologia e chimica. Poi abbiamo invece un altro laboratorio dove vengono effettuate le esperienze laboratoriali di fisica. Qui, come possiamo vedere, abbiamo diversa attrezzatura proprio che ci consente di poter far vedere praticamente quello che affrontiamo in classe da un punto di vista teorico. In questa scuola sono quattro anni che è stato attivato un percorso, un percorso di curvatura biomedica. È un progetto nazionale organizzato dal MIUR e diciamo è un percorso che si articola per il triennio e sono ben 150 ore tra lezioni in presenza e attività laboratoriale che i ragazzi svolgono. Le lezioni in presenza sono tenute da noi docenti del liceo scientifico e da alcuni medici dell'Ordine dei Medici di Rosseto. Questa è una terza per cui hanno già svolto alcune parti che riguardano conoscenza e competenza nel primo biegno. Ora in questo momento loro stanno programmando, quindi stanno studiando la programmazione del linguaggio C. La preparazione di questa scuola vuole essere globale, forte, vuole rendere il ragazzo sicuro, brillante nell'esposizione, non solo in quella orale ma anche in quella scritta. Spesso l'italiano scritto è un po' un punto debole dei ragazzi ora che si viene appunto da anni di dad. La pandemia ci ha messo effettivamente in difficoltà. Qui abbiamo cercato di non mollare su questo punto. Abbiamo messo addirittura su un corso, un'officina del testo che potenzia le abilità dei ragazzi, che le rafforza e che permette loro poi di portare avanti in parallelo le materie scientifiche e quelle umanistiche, in modo tale che possano poi, alla fine del loro percorso di studi, scegliere liberamente in tutti i settori che l'università potrà offrire. Io insegno diritto economia. Penso che per loro, cioè per i ragazzi dello sportivo, che affrontano questo percorso nel triennio, non nel biegno, sia un'opportunità in più, perché il loro programma riguarda sia una parte specialistica relativa al diritto e all'economia dello sport, però il loro programma comprende anche una parte generale del diritto, partendo dal diritto privato, pubblico, costituzionale, arrivando fino al diritto comunitario ed internazionale in quinta, e la parte di economia comprende argomenti sia relativi alla micro che alla macroeconomia, beh, in quel caso hanno l'opportunità appunto di conoscere delle nuove materie e potrebbero anche, come in alcuni casi è successo, intraprendere delle facoltà diverse, tipo giurisprudenza o economia. Oggi abbiamo una lezione sulla palla a volo, sono due classi dello scientifico delle scienze applicate. Stiamo cercando di fare un po' di didattica, visto gli ultimi due anni insomma un po' difficili, e i ragazzi stanno rispondendo diciamo anche bene. Tutto quello che ci offre la nostra struttura, sia a livello di palestra che campi esterni, ci permette di fare un'abbondanza di sport, quindi partendo dal calcio, pallavolo, basket, nuoto, tennis, beach tennis e beach volley, senza tralasciare anche l'atletica, naturalmente è parte integrante di tutti e cinque gli anni del percorso di studi. Per quel che riguarda lo sportivo il discorso cambia un po', anche perché noi dobbiamo fare teoria, molta teoria, cerchiamo di formare degli alunni che domani magari potranno prendere anche il mio posto, quindi un rinnovo generazionale con delle competenze veramente elevate. Puntiamo molto su questi ragazzi, soprattutto su quelle che saranno poi le loro attitudini sportive e soprattutto anche sul rispetto delle regole e ovviamente il loro intelletto. Con il diventare coprotagonista della fisica all'esame di maturità, ovviamente ha preso un'altra dimensione. Da noi la programmazione è molto ampia, si parla di fisica classica e anche quella moderna, ad esempio si fa meccanica classica e si finisce anche con la meccanica quantistica. Si tratta in modo approfondito, il nostro laboratorio permette di gettare le basi di una verifica sperimentale delle leggi fisiche che trattiamo, l'approfondimento è tale da portare Grusseto anche nelle eccellenze del MIUR. Io l'anno scorso ho partecipato alle Olimpiadi Nazionali di Fisica e ho vinto la medaglia di bronzo. La scuola mi ha permesso di intraprendere questo percorso, ha messo a disposizione le aule i professori materiali per fare tutte le gare preparatorie che servivano per l'ammissione al test nazionale. E in più ovviamente i professori mi hanno sempre spinto in questa direzione, mi hanno sempre aiutato in questo percorso, perché per esempio i professori di matematica e fisica e anche delle altre materie scientifiche mi hanno sempre fatto comprendere la bellezza di questa materia e invece di fare semplicemente il loro lavoro hanno tentato anche di trasmettermi qualcosa e questo è stato fondamentale per il mio risultato.